Oh, aspetta che, un secondo, ma un tanto metti l'account tuo, dobbiamo stacchettare il mio, sì? Ma hai rotto i coglioni? Ho preso Messi, guarda! Che cazzo mi hai preso? Messi! Messi? Eh, Messi, ma guarda, va! Guarda! Quando mi hai spacchettato, scusami, fammi capire questa cosa che non l'ho capita io! Eh, vai mai! Dove cazzo sta Messi? Fammi capire! Dove sta? Guarda bene, rompe le palle, sto cercando di preservare la mia esistenza! Ah, vabbè, dai! Vabbè! Vabbè! Diciamo che vabbè! Cioè? Diciamo! Vabbè, Benzema non è che ho butto accesso, insomma! Eh, allora non rompe le palle! Sì! Anche perché tu hai rotto! Le palle, le hai rotto! Perché devi sempre spacchettare la roba mia? Te l'ho accumulato un po' dei GP, eh! Eh, sì! Ecco! Vabbè, pensavo peggio, dai! T'ho sculato, dai! Non c'ho voce! Eh, vabbè, vabbè, dai! Fammo che te la faccio passare, su! Fammo che te la faccio passare! Facciamo un altro spacchettamento? Fammo un altro spacchettamento? Io pensavo che... Cioè, i 112.000 GP da spacchettare! Eh, spacchettare! Te l'ho accumulato i 20.000! Sono stato buono! Sono stato buono! Potevo anche... Guarda, sicuro! Spendere tutto e invece ti ho aspettato, ho fatto solo 12 pescate! Forse 13! La massima! Vai! Per 2017, l'opening! No, c'ho io! T'osonerebbe in faccia, proprio così, dritto! T'osonerebbe in faccia, saluta! Ciao ragazzi, veri trovati! Mi tocca sempre stamma assorbì sta rottura dei coglioni! Vabbè, ma dai! Sono rompito i coglioni che alla fine dobbiamo pescare un pensiero! Mamma, che cazzo! Sì, non me dai! Dai! Ah! Oggi è un buon moscetto, ma ci stanno i UEFA Champions League e Stars QF! Ci stanno i Champions League, Stars QF, però notate una cosa! Ci sappiamo solo 147 giocanti, ci abbiamo! Allora, andiamo un attimo a liberare gli slot! Libero al volo e seguo inci! 10 spacchettati! 10! 10! Ok! Così poi ne posso riluppare l'account e riparro un'altra volta! Certo, capito? Vai! Abbiamo liberato qualche slot, quindi direi che se vuoi cominciare! 10 spacchettate puoi essere veloce! Ah, tu hai detto una cosa, t'ho levato l'ottavo! Ah no, no, t'ho lasciato! Sono stato bravo! Ah, cittura, te l'ho visto! Sono stato bravo! Sono stato bravo! Beh, 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 beh! Dai, cominciamo, vado, vado! Voglio cominciare subito, voglio cominciare subito! E ciò, ve la spacchettà! Ok, quindi fai 10 pescati e te lo ripeto, poi me le lasci a me e quelle altre che te le faccio io a tradimento! Al prossimo fai schifo, fai proprio cagà, come al solito! Se non me la... Io t'ho pescato benzema, se tu me lo fai in paccopening de merda! Si dipende! Te la dedica solo che con te stesso! Va bene? C'ha la necchia questo, secondo te? Secondo me c'ha la messia! Di te sì, secondo me! Aggiungi a membri Mike Clark, perché questo è un membro proprio di quelli... È proprio un membro di quello cazzo! Secondo me comunque il pallone nero non lo peschi, te dico la verità! No, no! Vai, comunque con me concentrata! Mi devi lasciare una spacchettata a me e quando è che tu ne hai concentrati? No, non te lascio niente, questa è tutta roba, mi piace, pensa! Tutta roba tua, pensaci! E intanto è il pallone oro e questo sicuro mi fa le cose che ti soppetti, lo vedi? Ah, ci sogliete! Lo vedi? Davvero! Allora! Se fosse uno, mi sembra proprio uno del Real Madrid, perché non è pazza! No, è pazza, è pazza! Pazzagli che c'ha 84 del UGG, hai preso il pallone oro più potente, perché massimo 84, 35, 35, era nero! Comunque c'ha una lucidà abbastanza decente, pensavo... È veloce il pazza! 93, 93! 83 di velocità, questo è forte ragazzi! Acidua, te potrebbe tornare utile ora! Te torna utile questa sicuramente! Mi esistere un pochino, aggiungi ai membri Mike Clark perché poi io vedessi riesci a pescare il pallone nero, fammi una scommessa, se non peschi il pallone nero, ti attacchi a casa! Ah, ok! Se non pesco, ti attacchi a casa! Sì, se non lo attacco io al tuo! Va bene! Che belle cose, guarda! Sì, sì, sì! Tra la blasfemia e come si dice? Sì, sì, sì! Guarda che schifo! Guarda! È sottile! Hai preso un oro? Un oro e due argentoni! Due argentoni! Ti porto il conto? Che tipo pallottoliere? Chi è questo? Sì, è Germain! È Germain ma è monaco, è francese poi! È francese, quindi è Germain! È una fascità che ha! È una fascità che ha! È una fascità! Sì, sì! Sì, infatti mi devo ancora sciogliere in posto a aspettare che mi arriva quella... Eccolo! Eccolo! Che ti ho detto! Che ti ho detto che la pescavo! Subito! Ed attaccante pure perché fa... No, rinvia! È Bonucci! È Bonucci! È Bonucci! È Bonucci! È Bonucci! Grande! Ho Piquet! C'ho Godin! C'ho Geron Bellari! Ho Ramos per esempio! C'hai Ramos! Vabbè però questo ti dico la verità sinceramente lasciarlo in panchina è abbastanza verbo! È un delitto! È un delitto! Perché so che tu quelli tecnici... C'hai Piquet che è più tecnico ma questo sicuramente è più veloce! Eh, ma Bonucci per essere un po' più veloce! Infatti forse ci potrebbe essere un piccolo cambio della mia formazione! Lo potresti allenare! Quindi hai peccato! Ho dovuto peccato! Però Benzema è meglio! Benzema è meglio! Benzema è meglio! Ma qua non ho ancora più avanti che è la quinta! Questa è la quinta! Cinque! E quindi sai che ti dico che l'80 più neanche ve lo spreco! Ecco che cosa! Come non devo sprecare? E quanto cazzo lo fai che poi la settimana prossima voleva... Mamma che culo! Mamma che culo! Mamma che culo! Quanto lo fai che poi lo tolgono che non ci stai mai per spacchettare? Ancora con sette sorpetti questo è cagava! È cagava! Ma lo sai che è 85, 84? No questo non è 84! E' 84 no! C'era l'edizione speciale di Cagawa che è 85 pallone nero! Giapponese! Ti piacciono i giapponesi! Giapponese del Borussia Dortmund! Questo pure è bel giocatore! Non te stai a dimanemortacci! Lo aggiungiamo in prima eclamma! Lo aggiungiamo in prima eclamma! Lo aggiungiamo in prima eclamma! Comunque io te li vedo! Poi non c'hai tempo di spacchettare! Meno che te lo faccio proprio a tradimento! No allora non lo faccio proprio a tradimento! No allora non lo faccio proprio a tradimento! Allora! Questa è la sesta! Sesta! Sesta pescata! Minchions League! Minchions League! Sculato de merda che non sei altro! Rimortacci tua e di tutti i tuoi parenti! Subito! Subito adesso! Subito adesso! Ancora! Fai lo scattino! Fai lo scattino! Mamma mia! Per un attimo ho visto lo scattino! Mamma mia! C'hai un puro! È merdar! No è! Rammel! Rammel! Ah no ho detto al contrario! È Remalt! Vabbè dai su! Ma il fisico dove ce l'ha questo? Fammi capire! Do ce l'ha il fisico questo? Cioè questo è passivo non è attivo! Lo prende ma non lo dà! No invece al contrario! Perché se lo prende questo... Ah! Lo prende ma non lo dà! Ho detto bene! Lui lo prende! Lui lo prende! Non lo prende! Vabbè lo sta cazzata! Dopo sta cazzata! La settima! Settima pescata del giorno! Stai a ciucciare tutti i GP! Però zitto zitto qualcosina di buono! Lo stai sgarruppando! Lo stai sgarruppando! E' ancora! E' ancora! E' ancora! Ragazzi! Se ti fa le pecorine me ne vado! No! Ok! Dovevo sempre! E' cosa? E' party! Cimi party! Cimi party! Sì! E' ancora! E' uno dei tuoi giocatori preferiti! Cazzo si! Cazzo si! Non è cazzo si! E' Jamie party! Cazzo si tutto attaccato! E' un altro giocatore! Mamma mia quanto! 92, 90, 90, 85 finalizzazione! Cioè che cosa c'è di un giocatore? Niente! Che te porto fortuna! Te porto fortuna! Perché spacchetto da solo! Un gradimento e te becco la roba buona! Spacchetti tu a fianco a me te becco la roba buona! Eh vabbè! La prossima volta spacchetto da solo! Questa che è l'ottava! Vado con spacchetti da solo! Spacchetti insieme a me! E' l'ottava! Ottava! Ottava neanchiata del giuro! Spagliamo con GP e confermiamo! Non è che becchi un altro pallone nero! Io te giuro che me ne vado! Ma certo che lo becco al pallone nero! Ma certo che lo becco al pallone nero! Ma che sì! Peccato! Un pallone oro sinceramente becca nero! Vabbè certo! Oh! Ancora Lacer City! All Brighton! Che minchia al Brighton! Perfetto! Mandala avanti velocemente perchè tanto questo insomma è robetta abbastanza spisellina Diciamo cose proprio moscette! Un po' moscettina! Però giusto perchè dell'Aister insomma è uguale! Va bene! Nonno pescata del giorno! Nonno pescata e poi... Penultima pescata del giorno ragazzi! Pene ultima! Andiamo avanti! Pene ultima! Pene ultima! Bene! C'hai due possibilità di beccare pallone nero! Pata nero! Pata nero! Pata nero! Pata nero! Fai cagare al cazzo! Che coglioni! Hai beccato un argento o un espiselino? Questa è ancora a Monaco! Ammazza! Lo sapevo! Hai beccato tutto il Monaco! C'è sta più un giocatore come un Leicester ho preso! Va bene! Mandala avanti! E Juve! Aggiungi ai main free! Ai main free! Ma scusa non potresti piarne uno che ne so di Real Madrid per esempio che potrebbe essere spiselloso! Questa è una posizione dell'intercarica proprio aerodinamica! Sì! Vediamo la tua posizione aerodinamica! Guarda questa è l'80 a più eh! Sì! E' la layer che è più! Vai! Poco con GP e confermo! Guarda! Guarda la magia eh! Johnny è quasi magia Johnny! Guarda la magia! Eccola qua! Allora viene rassicurato! 100% pallone nero! Ecco! Guarda che spettacolo! E' nel piano! E' nel piano! E' pure il portiere! E' pure il portiere! Vaffanculo! Manco a fare le corzette! E' Zieta! E' Zieta! E' Zieta! E' Zieta! Ho capito! Perché avevi pescato il Benzema! Perché dai! Perché hai visto che ti mancavano solo 60.000 GP e te le potevo togliere di più! Magari è quello il motivo! Si! Diciamo! Pensa! Se ti levavo l'ultimo! E' migrare! E' migrare proprio all'estero totalmente! Ragliavo le mani! Saluta! Vabbè è meglio! Lasciate un mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale ragazzi! E ci vediamo al prossimo video! Comunque il Benzema è meglio del Bolucci! Anche se con luce è forte però sono stato più bravo! Sì vabbè! Bella!